Queste sono vitamine, fanno bene, sono molto gustose, ma ci sono altre vitamine molto importanti per bambini dai 4 ai 12 anni. Sono gli Educational by Clementoni, le vitamine per il cervello. Gli Educational by Clementoni fanno bene, aiutano il bambino a svilupparsi e crescere, sono molto gustosi e divertenti. Un gusto che trova con libro parlante, grillo, dotto e giochi educativi della Texas Instruments. Educational by Clementoni, vitamine per il cervello. Gli Educational, siamo noi. Clem Clem